Ben ritrovati nuova puntata di Cronache Trevigiane, andremo ad affrontare il connubio arte e vino ma vi parleremo anche di nuove opportunità grazie a degli accordi tra aziende del territorio e i sindacati per agevolare le famiglie trevigiane con periodi di difficoltà ma ora invece immaginiamo una nuova agricoltura che pianta nuove culture e una di queste potrebbe essere la canapa made in Treviso, il servizio. Carta, combustibili, materiali per biodilizia, olio e pasta sono solo alcuni dei prodotti che possono derivare dalla coltivazione della canapa proprio per fare chiarezza attorno all'argomento, Col di Retti Treviso ha organizzato un convegno dedicato alla coltivazione di una varietà che appartiene da sempre alle campagne del nord-est Oggi apriamo un po' il sipario su quella che è una cultura molto blasonata in questi tempi naturalmente se ne parla molto ma è importante approfondire noi come Col di Retti abbiamo istituito anche un ufficio per le culture alternative un po' per la questione della carenza di reddito dovuta alla cera agricoltura in genere pertanto troviamo aziende con territori a disposizione e vogliamo indirizzare queste aziende verso nuove opportunità la regione Veneto ha colto alla richiesta di Col di Retti di sostenere queste produzioni attraverso appunto dei bandi anche specifici e naturalmente per creare quella filiera indispensabile per la produzione, la commercializzazione e l'utilizzo di questo importante prodotto un'economia ancora di nicchia che in Italia conta 2000 ettari 18 dei quali in Veneto coltivati da 12 aziende produttrici due le varietà coltivate, la canapa da fibra e quella per uso alimentare ma queste nuove colture possono dare davvero un futuro soddisfacente in termini di reddittività? le prospettive più interessanti sono la canapa per uso alimentare per fare pasta, per fare birra, per fare oli e da questo punto di vista le reddittività sono molto interessanti ad una condizione che l'agricoltore non si limiti a produrre solo seme ma riesca ad arrivare a ottenere i prodotti trasformati riusciamo a dare qualche numero? sì, noi abbiamo agricoltori che vendono il seme che possono avere una reddittività di tra 2 e 300 euro a ettaro ma in pochi casi che abbiamo rilevato di agricoltori che si sono messi a trasformare a fare pasta, a fare birra si può arrivare da 3.000 euro a ettaro fino ad imprenditori anche più alti reddittività più alte se riescono a collocare bene i prodotti finali ai consumatori obiettivo di Colliaretti informare i produttori sulle possibilità derivanti da una pianta estremamente versatile capaci di costituire un elemento integrante anche nelle tradizionali produzioni agricole è il caso di Elia, trentenne di Castelfranco Veneto che assieme all'azienda di famiglia ha piantato canapa con l'obiettivo di sviluppare un progetto rivolto all'allevamento delle carni bianche ho iniziato l'anno scorso seminando a fine maggio un ettaro di canapa e la raccolta era principalmente per seme a uso alimentare dal quale ho ricavato olio, farina e successivamente trasformando in pasta, biscotti e quant'altro l'azienda di famiglia si occupa dal 1975 principalmente di allevamento di vitelli a canna e bianca è mio interesse proseguire questo core business ampliando anche il numero di capi e facendo un progetto assieme all'Università Agripolis coordinato anche da Colliaretti Treviso e Colliaretti Rovigo è quello di verificare la possibilità di trasformare l'omega 3 e l'omega 6 nella carne del bovino alimentando il bovino con il pellet di canapa Grazie! Grazie! Grazie!